Compagni, rifiutiamo il lavoro. Vogliamo tutto il potere, vogliamo tutta la ricchezza. Sarà una lunga lotta di anni, con successi e insuccessi, con sconfitte e avanzate. Ma questa è la lotta che noi dobbiamo adesso cominciare. Una lotta a fondo dura e violenta. Dobbiamo lottare perché non ci sia più il lavoro. Dobbiamo lottare per la distruzione, violenta del capitale. Dobbiamo lottare contro uno Stato fondato sul lavoro. Diciamo sì alla violenza operaia.